Di personaggi malvagi e diabolici, il cinema si è sempre nutrito, ma i livelli di crudeltà raggiunti da Mildred Ratched, l'infermiera di qualcuno volò sul nido del cuculo, fanno storia a sé. Dark Lady in uniforme bianca, disumana e insensibile, caporeparto dell'ospedale psichiatrico di Salem, Miss Ratched, interpretata da Louis Fletcher nel film di Milos Forman del 1975, negli anni è diventata un personaggio cult, a tal punto da stuzzicare la creatività pop di Ryan Murphy, che con la serie Ratched, disponibile su Netflix, racconterà le origini della spietata tiranna, oggi Sarah Poulson, dalla candida uniforme, mescolando i colori di Glee alla fascinazione per il sangue di American Horror Story. Il personaggio di Ratched compare per la prima volta nel romanzo Qualcuno volò sul nido del cuculo, nel 1962. Scritto da Kean Casey, uno dei più grandi esponenti della controcultura americana, il libro ispirato dalle vicende personali dello scrittore come cavia per uno studio sugli effetti delle sostanze psicotrope, in un ospedale dell'Oregon, da subito che si dichiarò senza far nomi che proprio in quell'istituto conobbe l'infermiera che poi sarà il modello per Mildred Ratched, ovvero una crudele caposala che tiranneggia un ospedale psichiatrico, fino all'arrivo di Herpy McMurphy, uno sbandato che si finge pazzo per sfuggire alla galera. Aggiunse anche che la rivide dopo anni mentre visitava un acquario, e la sua figura, più minuta di come la ricordava, sembrava anche restituire una natura più benevola. Dunque, il prototipo è effettivamente esistito, e nel romanzo, chi si lo muta in una donna dell'espressione calcolatrice è impassibile, con pelle bianca a effetto smalto e occhi azzurro chiaro, naso piccolo con narici rosa. In contrasto con questo aspetto immacolato, labbra e unghie sono invece arancioni, e il seno prosperoso ma racchiuso sotto un'uniforma bianca che ricorda un'armatura. Da questa versione, a quella definitiva del film, e poi ancora a quella di Ryan Murphy, c'è una tappa teatrale, con una accaldatissima trasposizione avvenuta l'anno dopo la pubblicazione del libro. Nei panni di Mac Murphy, che nel film del 1975 è un merovingioso Jack Nicholson, Kirk Douglas, mentre in quelli della terribile infermiera, Joan Tetzel. La sua Miss Ratched è però una donna mora in minuta, un personaggio quasi secondario. Con Louis Fletcher avviene invece la mutazione, per ora più memorabile. Grazie al regista Milos Forman, che rispetta molte delle descrizioni di Casey, e al contributo di Louis in merito alla conciatura anni 40 a corna di diavolo, simbolo di quanto Mildred si è inchiodata al passato. Non riesco ancora a vederlo, il mio personaggio è troppo cattivo e non posso sopportare un film tanto disumano. Così una decina di anni fa, l'attrice americana ha parlato della sua Mildred Ratched. All'epoca sconosciuta, arricchirà di sfumature inedite rispetto al romanzo, sua idea di darne il nome Mildred, che nel romanzo era taciuto, sua anche la scelta della conciatura raccolta, come abbiamo ricordato sopra. L'attrice ricorderà così la sua esperienza sul set. Ero così arrabbiata per il fatto che gli altri membri del cast potessero ridere ed essere felici, mentre io dovevo essere così fredda e senza cuore. Così, verso la fine delle riprese, mi sono tolta l'uniforme e sono rimasta in mutande. Per dimostrare ai membri del cast che non ero un mostro dal cuore di ghiaccio. Grazie a Mildred Lewis conquista l'Oscar come migliore attrice nel 1976, e il suo discorso di ringraziamento è rimasto negli annali. Grazie per avermi odiata così tanto, rivolto alla platea commossa, e sempre verso la platea un altro ringraziamento, ma stavolta utilizzando il linguaggio dei segni, per farsi capire dai genitori sordomuti.